Ciao, benvenuto nel mio progetto. Mi chiamo Lou e ho 20 anni. Abito con la mia famiglia a Winchester. Mia madre è francese e è cresciuta in Francia. Ciò significa che ho molta famiglia in Normandia e andiamo parecchie volte all'anno. Mio padre è inglese, viene da un piccolo villaggio a North Badersley. Ho due sorelle che si chiamano Ali e Margot. Ali ha 22 anni e studia a Cardiff e Margot ha 18 anni e studia a Brighton. Vado d'accordo con entrambe e mi piace passare il tempo con la mia famiglia. Alle scuole superiori sono andato al college Peter Simmons e ho studiato matematica, psicologia e francese per tre anni. Ho scelto queste materie perché mi interessavano e sono utili. La mia materia preferita era psicologia perché ho imparato molte cose sul cervello e sul comportamento umano. Nonostante, l'ho trovata difficili ma gratificanti. Fuori dal college, lavoravo come cammieri il fine settimana all'Amford Golf Club, un club privato. Ho fatto anche molta atletica e gare con i miei amici. Ho deciso di scegliere Reading perché l'università e il campus erano i miei preferiti. Ho scelto il francese e l'italiano perché amo le lingue e voglio vivere in entrambi i paesi. Ritengo che i due paesi siano bellissimi e voglio conoscere meglio le culture. Grazie mille per aver ascoltato. Arrivederci! Grazie mille per aver guardato il video.